Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio della Computer Museo. Questo episodio è un piccolo avviso, infatti uscirà fuori completamente da ogni programma. Questo perché vi volevo avvisare che da stasera ci saranno di nuovi Game Time. E come serie scelta, più che altro gioco scelto di quest'edizione di quest'anno, estiva, sarà Time Crisis. Un videogioco che è stato fondato nel 1996, se non erro. Praticamente era nato in sala giochi per poi essere diffuso su PlayStation 1 con Time Crisis 1, mentre con Time Crisis 2, 3 per PlayStation 2 e Time Crisis 4 per PlayStation 3. E principalmente quello che per ora abbiamo registrato, nonché programmato, sarà fino a Time Crisis 3, la trilogia originale. Perché poi il Time Crisis 4 è stato fatto come remake, diciamo, e Time Crisis Titan è praticamente invece... Titan, scusate, è invece stato una edizione, come si può definire, fallita. Cioè è stata un'edizione uscita solo a livello commerciale, ma che non ebbe mai successo. Cioè non aveva mai avuto successo e quindi è stata una versione un po' fallita. Anche quella la stavamo registrando, ma abbiamo molti problemi appunto perché è una versione, diciamo, parallela e soprattutto con molti bug. Quindi per ora programmato ci saranno solo queste tre edizioni. Se avremo ancora del tempo disponibile potremo anche creare la quarta e Titans. In caso contrario la faremo l'anno prossimo, che sono abbastanza livelli. Comunque, per questo piccolo anticipo è tutto. Io vi ringrazio per avervelo visualizzato e ci vediamo stasera con Time Crisis. Grazie a tutti.